Non si fanno minimamente il problema, quindi i celli vengono arrestati e appena li mettono fuori ritornano a fare quello che facevano prima senza proprio quella non curanza del ritorno appunto in cella, quindi che si può fare? Se non prendono provvedimenti comunque un po' più drastici probabilmente la situazione non si risolverà mai e saremo sempre punti a capo. Per lui le manette sono scattate tre volte in soli tre mesi sempre perché sorpreso con la droga, insomma una pusher recidivo, si tratta di un 24enne originario della Mali appunto già noto alle forze dell'ordine e irregolare sul territorio italiano. Il giovane infatti era già stato arrestato due volte a settembre e ottobre sempre a Campo di Marte, una delle zone più delicate della città. C'è bisogno di continuare quello che stanno facendo perché sicuramente da un anno o due a questa parte si è intensificato i controlli, anche la sera tante volte capita un negozio, trovo le pattuglie, trovo i vigili, trovo la polizia, quindi vuol dire che il controllo c'è, bisogna intensificarle e darsi da fare. L'uomo quando ha visto la pattuglia della polizia nel parco Mancini ha anche provato a darse la gambe ma una volta bloccato è stato trovato in possesso di hashish già confezionato e pronto per essere ceduto. I guai per il ragazzo però non sono finiti qui, è stato infatti anche denunciato per danneggiamento aggravato poiché ha opposto resistenza in questura sputando ed urlando agli agenti sino a danneggiare con decalci la porta di una camera di sicurezza tentando di sfondarla. Gli agenti si trovavano a Campo di Marte per un altro uomo che aveva rubato un tablet da un ristorante in centro. La polizia è arrivata nel momento in cui il ladro stava trattando per rivendere l'accessorio rubato poco prima. Una volta stoppata la trattativa il malvivente è stato identificato e denunciato a piede libero.